Sì, sto facendo operando un disegno sullo scritto, l'ho cominciato a fare l'altra volta la sabato scorso a disegnare e ora sto finendo di disegnarlo e colorarlo da parte di sopra. Sotto devo farlo ancora e ci vuole del tempo. E' buona visione, cercando di mettere lo scritto, così lo vedete, devo colorare per forza questi qua, perché è rosso, questo si è incastrato nella punta d'endro, poi si è seccato il colore, questa è la stessa cosa di quell'altro rosso, e allora uso questo qua, un copic, questo disegno qua, un lavoro tipo questo, ci vuole diversi giorni, perché fare disegni questi deve pensare molto 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 bene cosa metterci dentro al disegno, se no come fai a fare il disegno a modo, fai schifio, no, no, farlo schifio, farò perfetto, preciso, o la calma, senza fretta. Questa qua, è la prima parte del video, quella era la prima, la prima era quella altra, questa è la seconda parte, e nel titolo non ce l'ho messo nel video, che era la prima parte, ma questa qua è la prima. Questa è la seconda parte, invece della prima l'ho sbagliato io a dirlo, ma questa è la seconda parte, quella la prima parte, quando mi è arrivato il pacco grande, come avete visto in quell'altro video, questo qua, è arrivato. Questa prima questa scritta qua, ma il disegno ce l'ho fatto io sopra con la matita, ora sto procurando prima il colore, dopo ci faccio il bordo con leone di posca nero, ci faccio i bordi, e così diventa più bello. ora ti faccio i bordi, mi è un attivo... ora ti faccio i bordi... Chi, quelli che mi seguono, lasciateli like, seguitemi e iscrivetevi al canale, chi non è ancora iscritto, e quelli già iscritti dicono ai propri suoi parenti, amici, cugini, nonni che già hanno telefoni moderni come voi di seguirmi su YouTube. Su YouTube mi chiamo come molti che mi seguono e che sono già iscritti al mio canale, mi chiamo Dark2.0 Lark, chi non mi segue ancora e quelli che mi seguono, avete già capito, pubblicizzate al mio account YouTube, che mi chiamo Dark2.0 Lark, pubblicizzate altre persone. Io faccio solo il video per fare questo tempo e farvelo vedere a voi, se vi piace, se vi piace lasciate un pollice in su, se non vi piace, purtroppo non mettete like, oppure mettete il like e adesso è giù. se volete, per favore lasciate i commenti sotto ogni video che io pubblico per voi sul mio canale YouTube, lasciate un commento, io arrivando a vedere i commenti, poi ci saranno i commenti, io li riguardo, e poi io guardo i commenti vostri che vi avete mandato sotto ogni video e così eccetera, mi risponderò, quando avrò tempo e risponderò a tutti i commenti che volete mandarmi. al primo e all'ultimo audio, no audio, scusate. Se volete fare qualche video con me, se siete nella mia stessa zona fuori o fuori lì, il fine settimana, se volete, mi dite a me, mandate su Instagram, mi chiamo Manuel, su Instagram mi chiamo, con nome vero, mi chiamo su Manuel, Manuel Chioni, Manuel trattino Chioni, Manu, o Manu, come vi trovate, mi trovate, con una macchina che è una Mercedes, 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 mi vedete lì, mi seguite, se vi abbraccio anche qualche immagine di quelle lì, ci sono, a volte a quello, andate nella chat di Instagram, mi scrivete, mi dite se volete chiacchierare, così, se volete fare, ad esempio, come ho già detto, in questo video, qualche video insieme a me, ci scambieremo i numeri di cellulare, se volete fare qualche video, oppure per chiacchiare più o meno, tipo cosa hai fatto oggi, cosa hai fatto ieri, così, ok? e invece su TikTok, che è una canta su TikTok, sono diversi anche su TikTok, ma l'ultimo che usa di più, si chiama Manuel Chioni, tutto piccolo, eh, scrivete, tutto piccolo, questo, Manu e Chioni, 0-2 in finale, perché sono del 2002 io, e allora ho messo in finale 0-2, per farvi capire che sono del 2002, ok? Prima di registrare questo video, ero ad ascoltarmi un pochino la musica, poi la cassa, della cassa qui, si è scaricata, e allora ho intratto ad ascoltarmi la musica, e mi sono messo a farvi vedere il video, cosa sto facendo, a verificare il video, per farvi vedere il video, come, ecco, ecco, anche, per le raviate, per le raviate, ed è raviate, qua, erano attaccate sul computer quel piccolo, nera male, mi servo. Regarde la raviate sono... una raviate, un carminante. sono in silenzio ma che sto disegnando non è perché non voglio parlare con voi del locale e spiegarvi cosa sto facendo ma che sono concentrato con calma a fare finire quel disegno prima lo finisco e prima faccio anche le mie di poso di rossi eccetera ok ragazzi lo faccio un pochino per il giorno tutt'ora perché sennò prima che finisco e fare tutto e prima finisco fare il video e calcamelo ci metto delle ore via suscita E come ho già detto scrivete tutto il mio video nei commenti tipo salutami e tizio come si chiama oppure salutami eccetera oppure scrivetemi altri commenti dark 2.0 dark puoi fare questo questo nel prossimo video io lo farò ma non cose percorose che non mi faccio male sì non sto scherzando raga io mi tengo alla mia salute come voi tenete la vostra salute la vita viviamo una volta solo Gesù non ci ha dato due vite sì ma ci hanno dato sì due ma una qui terra dove stavo vivendo e la seconda è il paradiso o l'inferno dipende cosa abbiamo fatto nella vita come ci siamo comportati che si comporta male va direttamente all'inferno invece che si comporta molto molto bene va direttamente al paradiso più bello è il paradiso dell'inferno più bello essere angeli invece di diavoli nel posto c'è il diavolo il diavolo ci fa lavorare faticare spaccare le rocce eccetera e invece nel paradiso no rilazzo c'è anche lì da lavorare non come nell'inferno lasciamo stare il paradiso dell'inferno andiamo avanti con il video e dopo avete visto dal primo secondo all'ultimo secondo al primo minuto e all'ultimo minuto del video lasciate like iscrivetevi al canale attivate la campanella e iscrivetevi e iscrivete nei commenti cosa fare nel prossimo video ok ragazzi ok fatemi sapere cosa mi pensate della seconda parte del video lasciate qua sotto i commenti come l'ho detto iscrivetevi al canale attivate la campanella e ci vediamo ci vediamo ci vediamo ci vediamo ci vediamo al prossimo video